Innanzitutto le scuse. Dovevamo vederci il 31, poi il 31 non sono arrivato in Puglia e quindi le scuse per non essere arrivati in Puglia e per avervi dato il fastidio di venire a Roma. E quindi innanzitutto le scuse. Un po' di notizie, almeno diamo un po' di informazioni su quello che stiamo facendo, su quello che abbiamo fatto ma soprattutto su quello che abbiamo intenzione di fare e che vogliamo condividere con voi. Innanzitutto stiamo portando avanti, grazie al sottosegretario Pesce, e vi chiedo un applauso ad Alessandra Pesce il nuovo piano olivicolo nazionale. Le risorse, metteremo risorse sul nuovo piano olivico nazionale, sull'esistente e nella prossima legge di bilancio altre risorse per dare delle risposte serie e costruttive al settore in modo che il nostro settore torni ad essere un settore trainante della nostra economia. Altra cosa fatta sapete che mi ero speso personalmente quando ero venuto in Puglia avevamo detto che avremmo fatto un decreto sulla Xilella il decreto è stato fatto, ieri in conferenza Stato-Regioni è stato approvato ci sono i soldi, c'è il decreto, si parte col decreto Xilella senza se e senza ma. Nessuno, e il ministro lo ha capito lo ha capito e dopo settimane di lavoro insieme perché questo è un lavoro che è stato fatto dalla regione Puglia e dal governo insieme abbiamo rafforzato la volontà del governo e vigileremo assieme a voi perché le promesse di oggi siano mantenute! Grazie a tutti!